Ciao a tutti ragazzi, sono veramente felice di avervi qui in questo video mi è sembrato giusto parlare del progetto anche a voce insomma perché chiaramente è una cosa che ha colto un po' tutti di sorpresa essendo una cosa abbastanza inaspettata sì, avevo messo un countdown ma nessuno si aspettava comunque una cosa riguardante il competitive di Halo piccolo chiarimento Halo League, come giusto che sia, lo spiegherò in poche parole è un progetto nato quest'anno, ideato da me ma comunque sviluppato da tantissimi altri ragazzi come Marco Cremona del 17K UNSC Group di Facebook come altri ragazzi che mi stanno aiutando di cui non posso dire il nome perché hanno deciso così per privacy ma insomma molta gente popolare nel panorama di Halo che è rimasto attivo sia nel competitive sia non nel competitive ma quello che noi puntiamo non è soltanto a rimodernizzare il competitive di Halo e a farlo crescere e a creare una nuova generazione di giocatori quello che noi puntiamo è far tornare il competitive in Italia ai livelli che c'erano un tempo su Xbox One ora che Call of Duty probabilmente comunque sarà giocato di meno sulla console di casa Microsoft è giusto focalizzarci sulle esclusive quindi Halo è il primo ma non si sa mai che in futuro ci possa essere anche un Gears of War e altre cose quindi voi rimanete sempre attivi solo League su Major League Gaming perché Alex il ragazzo che gestisce con la pagina ha fatto un lavoro eccesso e lo sta ancora facendo e io molte delle news le posterò anche lì oltre che sul forum io sono veramente orgoglioso di tutto questo perché abbiamo investito tanto tempo, tanta fatica ma soprattutto stiamo ancora investendo a livello economico qualcosa di veramente importante stiamo facendo dei sacrifici e lo stiamo facendo per voi io voglio ringraziare tutta l'utenza che ci sta dando pubblicità tutti gli amici che stanno condividendo la nostra pagina voglio ringraziare tutta la community che ci ascolta e che ci sta ascoltando e che continua a farci domande su quello che sarà Halo noi partiremo con i tornei con Halo 5 abbiamo già delle idee, già dei progetti, tutto legalizzato senza problemi di nessun genere cercheremo di far pubblicizzare l'idea anche su altri siti anche su altri importanti portali in modo tale da avere una riconoscenza massima cercheremo anche di essere riconosciuti da Microsoft Italia chissà, magari potremmo anche andare a Games Week e presentarlo come progetto ufficiale con uno stand però questo è un sogno che però noi magari proveremo a fare non si sa mai con i tornei ovviamente noi posteremo tutte le news sulla pagina Facebook dedicata posteremo tutte le notizie, tutti i link per i futuri tornei presenti e passati i futuri di ogni singolo torneo italiano ma anche europeo e svilupperemo i tornei su un sito, su un portale che chiaramente lo useremo semplicemente per postare i regolamenti per postare ovviamente i team, i gironi insomma su quel sito lì lo useremo ovviamente semplicemente per fare per gestire i tornei insomma perché non si possono gestire su una pagina di Facebook chiaramente ma questo soltanto per la gestione dei tornei per quanto riguarda invece tutto il resto le interviste, i video, così verranno tutti postati sia su Facebook, sia su Youtube con una pagina dedicata sia ovviamente su il sito che te lo deco ancora adesso è un sito che aprirà, che annunceremo prossimamente, successivamente che per ora servirà per Halo ma in futuro potrebbe servire anche per Go per quanto riguarda i tornei che molti mi hanno chiesto questa domanda ci saranno tornei di ogni tipo gratuiti, a pagamento, con iscrizione, con tesseramento, senza tesseramento in LAN, non in LAN, con qualifiche, senza qualifiche ci saranno tornei 2 contro 2, tornei 4 contro 4, tornei FFA magari tornei anche 1 contro 1 insomma faremo tutti i tipi di tornei per quelli che mi hanno chiesto sarà soltanto Team Competitive HCS? no la nostra idea, almeno quella di me e l'altro admin Jimmy che molti conosceranno, Francesco Facco era quello, sì, di fare ovviamente tornei HCS perché comunque la gente deve cominciare a giocare competitive su quelle modalità ma presenteremo anche dei tornei adatti alla nuova community in modo tale da portarli un po' alla volta nel vero competitive un po' come quello che è stato fatto con gli altri Halo quindi faremo delle modalità adatte questo è per far sì che l'utenza si abitui piano piano alle modalità giuste di Halo noi, innanzitutto, da adesso chiaramente che c'è la Master C Collection io vi invito a comprarla per seguire la storia di Halo per ovviamente capire un po' i meccanismi nel competitive per i giocatori di Call of Duty, mi intendo per quelli che passeranno comunque ad Halo se no, aspettate allo 5, è comunque un gioco molto diverso sia per quanto riguarda il gameplay, sia per quanto riguarda le caratteristiche e altre cose, vi consiglio di seguirci ad adesso perché la pagina Facebook non sarà attivissima al 100% più che altro perché il gioco ancora non c'è ma pubblicheremo dei video per spiegare le basi del competitive per tutti quelli che non lo conoscono pubblicheremo ovviamente dei vlog pubblicheremo anche dei podcast come questo perché alla fine questo è un podcast in cui annunceremo le notizie presenteremo tutto ciò che vi riguarderà per il competitive faremo delle interviste tutti voi sarete protagonisti ragazzi quindi non temete, non ci saranno favoritismi su nessuno all'inizio tutti partiremo dallo stesso livello voglio far sigalo, torni grande in Italia è il mio sogno più grande nei LAN, se 343 ci conferma la spectator mod ci saranno due caster uno caster sarà quasi sempre fisso comunque cambierà poche volte il secondo caster è una mia idea personale questo è un annuncio che voglio fare per tutti quelli che hanno giocato ad halo con me comunque prima di me sarà un vecchio giocatore di halo io chiamerò a ogni LAN che faremo a ogni evento che faremo un caster che sarà un vecchio giocatore di halo e questa è stata una mia idea perché comunque io sono cresciuto con molti giocatori che ora purtroppo per tempo, per università perché comunque anch'io molerò fra un po' di tempo che mi hanno aiutato a crescere in questo panorama competitivo e mi farebbe piacere davvero dargli un bellissimo omaggio facendoli comunque protagonisti di questo progetto che se non fosse stato per loro probabilmente non sarebbe mai esistito a livello futuro quindi io invito proprio alcuni nomi cito Chaos, cito Arthas, cito Richard cito anche Diamond, Belial, Andre, Master, Simone, Simo, Neon insomma ne cito tanti che hanno giocato ad Halo che hanno comunque nonostante tutto magari non ottenuto i risultati sperati ma comunque hanno fatto ovviamente la storia di Halo in Italia per lungo periodo io se non torneranno a giocare a livello seriamente almeno li vorrei vedere come caster mi piacerebbe che comunque prendessero parte a questo grande progetto che io punto veramente a farlo diventare una grande famiglia io ragazzi per ora vi voglio salutare il nome di Halo League per tutti quelli che me lo chiedono ancora è stata una decisione presa da me l'ho scelto io personalmente perché la mia prima community di Halo fu proprio Halo League che venne prima di Halo Italia e lì ovviamente con Hobby Competitive lì inizia a giocare seriamente ad Halo quindi per me rappresenta qualcosa di che insomma mi fa cadere in vecchi ricordi niente ragazzi io con questo vi saluto se avete domande io vi invito a seguire ovviamente la pagina ufficiale del progetto che è Halo League su Facebook faremo un profilo Twitter che è già stato fatto in realtà dovremo solo condividerlo vi invito a seguire per i nuovi ulteriori aggiornamenti sia Halo League sia Major League Gaming Italia e sia ovviamente la mia pagina ufficiale di Facebook che è iNXG Andre con questo vi saluto ragazzi e mi auguro che voi prendiate seriamente scusate seriamente questo progetto e veramente vi invito a seguirci perché avrete tante tantissime novità e se avete idea non esitate a scrivermi ciao ragazzi